Nel Walzer, dei suoi numerosi trasferimenti tra le carceri siciliane, il 24enne tunisino Anissa Mri, l'attentatore ai mercatini di Natale di Berlino, ucciso la notte scorsa dalla polizia italiana Sesto San Giovanni, per un mese e mezzo fu detenuto presso la casa circondariale di Sciacca. Vi arrivò l'11 dicembre del 2012. Quella dell'ex convento dei Carmelitani fu la sua terza destinazione, venne dopo i soggiorni presso i penitenziari di Catania ed Enna. Da Sciacca poi il terrorista tunisino fu trasferito al carcere Petrusa di Agrigento e, infine, dopo sei mesi, a Palermo, prima al Pagliarelli, poi a Lucerdone. Trasferimento da un penitenziario all'altro disposto per gravi e comprovati motivi di sicurezza. Una motivazione questa che conferma la pericolosità del soggetto, la cui posizione, già durante la detenzione ad Agrigento, era stata definita radicalizzata a voler significare il rischio che si potesse avere a che fare con un soldato dell'ISIS. Risale a due anni fa la segnalazione al Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo di comportamenti sospetti di Amri, notati durante i periodi della sua detenzione. Polizia penitenziaria che sospettò di lui dopo che aveva accertato che Anis Amri frequentava unicamente detenuti tunisini, legando soprattutto con un gruppo ristretto. Poi, gli episodi violenti. Ad un compagno di cella di religione cristiana, Anis Amri aveva detto, Ti taglio la testa. Giunto in Italia nel 2011 su uno dei barconi diretti in Sicilia, Anis Amri si rese subito protagonista, insieme ad altri connazionali, dell'incendio al centro di accoglienza di Belpasso in provincia di Catania. Da qui l'arresto la condanna a quattro anni di carcere, anni in cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha annotato per ben 12 volte episodi che durante le detenzioni ne certificarono la pericolosità, comportamenti violenti, offese, molesti, intimidazione e sopraffazione nei confronti degli altri detenuti, ma anche disordini, sommosse e non meglio specificati altri reati. Su tutto questo adesso la Procura della Repubblica di Palermo ha deciso di aprire un proprio fascicolo d'indagine di quelli che si definiscono atti relativi allo scopo di verificare il comportamento in carcere di Anis. Gli accertamenti sono stati delegati alla Digos di Palermo che ha già acquisito alcuni atti del percorso carcerario fatto dal tunisino. Vicenda quella di Anis Samri che dunque ha interessato direttamente anche il territorio di Sciacca. Non è noto se anche qui si fosse reso responsabile o meno di atti di indisciplina carceraria, ma il terrorista di Berlino passò pure da queste parti e oggi qualche brivido è lecito averlo.